ciao a tutti bentornati sul canale Decathlon Torino io sono Roberto del negozio di Moncaglieri personal trainer presso lo studio di Benasco Old School e oggi vi farò vedere dei semplici esercizi con il TRX ma prima la sigla all'interno della scatola troviamo TRX con la sacca in modo tale da portarlo dove vogliamo la fascia per poterlo attaccare a tronchi, rami o barre che va fissata direttamente alla barra dopodiché attacchiamo il TRX con questo semplice metodo ricordiamoci che il TRX è regolabile e una volta agganciato siamo pronti per allenarci se non avete a disposizione una sbarra o una trave potete utilizzare la porta di casa posizionando il perno esattamente dietro la porta andiamo a chiudere la porta e il nostro TRX è già pronto all'uso iniziamo con un esercizio base al TRX che è il row si può partire con 15-20 ripetizioni minimo con un movimento lento e controllato ricordiamoci che aumentando l'inclinazione sarà anche più difficile svolgere l'esercizio come secondo esercizio andiamo a svolgere dei piegamenti classici al TRX che sono un esercizio base anche qui 15-20 ripetizioni con un movimento lento e controllato e ricordiamoci che variando l'inclinazione sarà più arduo svolgere l'esercizio come terzo esercizio andremo a svolgere gli affondi al TRX per allenare le gambe anche qui 15-20 ripetizioni ricordiamoci di fare prima una gamba poi l'altra per aiutarci possiamo guardare un punto fisso e aiutarci con le braccia per avere un maggiore equilibrio come ultimo esercizio andiamo a allenare l'addome con il plank al TRX si può fare sia appoggiando le mani ma perché avesse problemi ai polsi appoggiando direttamente i gomiti 15-20 secondi minimo fino a un minuto o un minuto e mezzo c'è una variante si può fare uno skip perché avesse un addome molto più allenato spero che questo workout base con il TRX vi sia piaciuto continuate a supportare la nostra pagina e se siete ancora interessati a delle nuove perle per gli allenamenti venite in studio grazie